Addio all'ex allenatore del Bari, Gaetano Salvemini. È morto all'età di 82 anni. Addio a Gaetano Salvemini. Il mondo del calcio piange Gaetano Salvemini, ex allenatore dell'FC Bari, scomparso all'età di 82 anni. Salvemini è considerato una figura fondamentale della Serie B nella comunità sportiva italiana. La sua morte è lamentata da molti tifosi, giocatori e dirigenti che apprezzavano la sua passione e dedizione per lo sport. Salvemini ha iniziato la sua carriera da allenatore negli anni 70 e ha lasciato il segno soprattutto nell'FC Bari, dove ha ricoperto il ruolo di allenatore capo per diverse stagioni. Aveva una notevole capacità di sviluppare giovani talenti e di introdurli nel gioco professionistico. Molti ex giocatori che hanno giocato sotto la sua guida ricordano quanto abbia contribuito alla loro crescita. Durante il suo periodo all'FC Bari, Salvemini ha messo insieme una squadra che si distingue per il riuscito gioco di squadra e un'eccezionale chimica di gruppo. Non solo è stato promosso il talento sportivo, ma è stata anche creata un'atmosfera familiare. Secondo quanto riferito, Salvemini diceva spesso che il lato umano di un giocatore è altrettanto importante delle sue abilità calcistiche, il che è stato molto apprezzato dai suoi giocatori. Il allenatore era conosciuto per le sue analisi strategiche e il suo instancabile impegno a bordo campo. I giocatori che hanno collaborato con lui, anche dopo molti anni, tornavano sempre al suo modo incisivo di leggere le partite e di svelare strategicamente gli avversari. Salvemini sottolineava spesso quanto fosse importante motivare continuamente i giocatori e sostenerli nei momenti difficili. Molti compagni di viaggio che hanno lavorato con lui riconoscevano la sua capacità di tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Questa peculiarità portò alla fine degli anni settanta e all'inizio degli anni ottanta il Bari a successi notevoli in serie B. Anche l'allora presidente del club riconobbe il suo straordinario contributo alla squadra e l'influenza positiva che Salvemini esercitò su giocatori e collaboratori. Dopo la sua esperienza con l'FC Bari, Salvemini è stato attivo anche in altri club, ma la sua era a Bari rimane viva nei ricordi di molti tifosi. Il suo impegno per il club e l'estasi che trasmetteva durante le partite sono indimenticabili. Salvemini si è distinto non solo come allenatore, ma anche come persona, condividendo costantemente la sua filosofia e i suoi valori con i giocatori e lo staff, il che si rifletteva in un'armonia sia dentro che fuori dal campo. La sua morte rappresenta una grande perdita per il panorama calcistico italiano. Membri del club, tifosi ed ex giocatori sono uniti nel lutto per un uomo che ha ispirato molti con il suo instancabile impegno e la sua dedizione allo sport. I ricordi di Gaetano Salvemini vivranno nel cuore di molti e la sua eredità sarà sempre onorata dalle future generazioni di allenatori e giocatori. Autore Anita Fache, sabato 7 settembre 24.